Allora amici di Sempre Curiosa, sono in compagnia di una donna, di un'attrice altro che curiosa, perché lei è Bianca Podestà, anche se è mascherata, però è Bianca Podestà. Ciao Bianca! Ciao caro, ciao! Allora, io volevo fare una chiacchieratina con te, perché so che l'estate del 2022... È un'estate calda! È un'estate caldissima, sarà un'estate caldissima! Calda d'impegni, sì, infatti portiamo il 6 di agosto, guarda, andiamo a Cremolino con il secondo varietà e tre in Subansigo, che recitiamo con Ivana Marenco, Cinzia Rapeto e Paolo Ferrari. Poi il 19 di agosto sempre andiamo a Savignone, col primo varietà, Boga Bilooga, anche quello che il titolo dice poco, però è intrigante e andiamo lì. Poi porteremo avanti il Noir, due gocce di Noir, che è un giallo, al Forte di Santa Tecla, perché lavora anche con queste compagnie conviviali, che sono spettacoli itineranti, però ti devo dire, molto molto intriganti. e l'anno scorso addirittura hanno avuto un seguito di 600 presenze. Bene. E il varietà che dovevamo portare il 2-3 d'aprile al garage, per motivi di salute, abbiamo dovuto rimandarlo e allora lo porteremo in scena, che è... Il titolo è un po' curioso perché è Ivana Marenco, che se le studia tutte. e dice così www.shushaishishanta.ze Praticamente trattiamo gli anni Sessanta e lo porteremo al garage come il teatro apre la stagione autunnale, sarà il primo spettacolo. E questo è molto divertente perché trattiamo gli anni Sessanta e ci saranno i vari caroselli, mi vedrete fare la mucca Carolina, Carmen Sita, la telefonista. Insomma, è un bel insieme che faremo molto ridere perché gente... Cioè, bisogno di ridere, diciamolo. Abbiamo bisogno di ridere, basta. Basta con le lacrime, non se ne può più. Ecco. Senti Bianca, una vita dedicata al teatro. Sì, direi di sì, avevo. Ero stata, sono stata più di 35 anni impiegata alla Piaggio Vespa. Però la mia avventura è iniziata ai primi anni 90 quando sono andata in prepensionamento. Capisci? Allora ho lavorato con la San Fruttoso, con la Govi, con il professor Campodonico e adesso praticamente con questo saremmo, ci siamo battezzate The Three New Peter Sisters. Ecco, e facciamo, portiamo avanti questo varietà e facciamo parte, saremo il braccio genovese della compagnia in canto e in scena. Perché da personaggi da soli non puoi tu accedere a un palco. Ci vuole una libera di una compagnia e la signora Laura Lunetta, che è la presidente di questa compagnia, non le è sembrato neppure vero di accettarci come braccio del genovese ed è felice perché, insomma, quando andiamo e facciamo diamo dei risultati di divertimento. Perché bisogna divertirsi. Ricordatevelo, eh. Basta, non se ne può più. Voglio ridere. Bene, e anche noi vogliamo ridere con Bianca Podestà con tutti i suoi appuntamenti di quest'estate 2022 perché si tornerà sul palco. Torneremo tutti a lavorare con la musica, col teatro, con gli spettacoli. Cercate gli appuntamenti con Bianca Podestà in rete perché li trovate. Lei quest'estate sarà dappertutto. Ciao Bianca. E vi chiudo con, in genovese, signoria. Bello.